Se vuoi una vita serena, se vuoi la vita che è sempre desiderato, il primo passo importante da fare è quello di conoscere te stesso, quello di conoscere chi sei veramente, cosa il tuo cuore desidera in profondità, quali sono le tue qualità, qual è il tutto il tutto il grande potenziale che porti dentro, perché non c'è stata una sola persona che io ho incontrato nella mia vita che non ha espresso dopo un immenso potenziale e anche tu che mi stai guardando in questo momento hai tutto questo dentro di te e se hai deciso di partecipare a questa masterclass è perché sono sicura che anche tu senti il bisogno finalmente di liberarti di grazie grazie grazie